Sono Lucio Scaviecel, proprietario dell'azienda Savignola. Il mio ruolo è gestire le diverse attività dell'azienda vitivinicola di Savignola. Al di là della produzione del vino, oggi a Savignola c'è anche la possibilità di degustare i nostri vini in abbinamento di specialità toscane fatte tutte in casa. Il territorio che ci circonda Savignola è un territorio bellissimo che rispecchia proprio la tipicità del Chianti Classico. Collinoso, terreni sassosi, difficili da lavorare, ideale per una produzione di vino con una buona struttura, tanto degli ottimi sentori al vino. Ho imparato molto nella pratica facendo il lavoro ogni giorno, cioè in ogni stagione ci sono lavori diversi da svolgere, dalla potatura in inverno, dai lavori del campo durante la stagione, il lavoro in cantina, cioè facendo questi lavori e confrontandosi anche con i colleghi, con i dipendenti che lavorano a Savignola, ogni giorno è un'opportunità per imparare qualche cosa.